12.000 studenti in meno. L'anno scolastico 2024-2025 registra un calo di 2,3% di iscrizioni. Rispetto allo scorso anno che vedeva in classe 529.000 studenti pugliesi e salentini, quest'anno saranno invece 517.000. La prima causa di questa riduzione riguarda il calo demografico. Stando ai dati elaborati dall'Associazione Nazionale Presidi Puglia, quest'anno a Lecce sono 97.000 ragazzi pronti a ritornare a scuola, 49.000 a Brindisi, 74.000 a Taranto e 166.000 invece a Bari. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli alunni delle scuole del primo ciclo, elementari e medie, quest'anno sono 102.000 a Bari, 30.000 a Brindisi, 61.000 a Lecce e 47.000 a Taranto. Gli studenti delle scuole relative al secondo ciclo sono invece 64.000 a Bari, 19.000 a Brindisi, 36.000 a Lecce e 27.000 a Taranto. Restando su quest'ultimo dato, in Puglia i licei restano la scelta predominante, con il 56,23% delle iscrizioni. Tra i diversi indirizzi, quello più gettonato è lo scientifico, con 16,10% delle scelte, seguito dal classico con il 6,18%, mentre al terzo e al quarto posto troviamo rispettivamente il liceo linguistico 7,27% e il liceo delle scienze umane con il 7,12%. Mal invece il liceo del Made in Italy, scelto solo dallo 0,05% degli studenti. Il 30,97% ha invece scelto gli istituti tecnici, puntando su informatica e meccanica. Gli istituti professionali hanno raccolto il 12,80% delle iscrizioni, soprattutto con indirizzo Eno Gastronomia e ospitali d'alberghiera con i 4,47%.